A 15 giorni dal debutto di campionato, la Vispesero cade nell'esordio ufficiale di Coppa Italia con l'Arezzo. Pesaresi eliminati dal torneo al cospetto di Toscani solidi e consolidati sull'ossatura della passata stagione rispetto ad una visse rinnovata e in fase d'assemblaggio. Albenelli finisce 3-1 per gli ospiti eppure era stata la visse a passare in vantaggio dopo nemmeno due minuti di partita con Nicastro, bravo a capitalizzare un'azione nata sugli sviluppi di calcio di punizione. L'Arezzo però c'è e trova il pari con Guccione che al venticinquesimo batte Vukotic. Arezzo che poi ribalta la situazione al tramonto del primo tempo col più classico gol dell'ex Gucci che fa 2-1 su colpo di testa. Le velletà di rimonta Vissine vengono avvilite nella ripresa dell'espulsione per doppia munizione di Neri ma la visse resta incollata al match prima di capitolare sul 3-1 finale di Gaddini. Ci sono state molte cose positive, alcune cose negative, al di là del risultato e che ci dispiace, ci tenevamo a ottenere una vittoria per passare il turno e per prepararci ancora meglio alla partita poi priva di campionato. Così non è stato, resettiamo, analizziamo quello che potevamo fare meglio perché ci sono state cose che non abbiamo fatto molto bene, soprattutto quella di abbassarci un po' troppo nella prima parte della partita. ma le partite in Serie C vanno così, vanno affolate, magari nel suo tempo se non rimanevamo in 10 per 30 minuti potevamo uscire, anche perché poi ho visto che in 11 contro 10 abbiamo tenuto bene il campo e addirittura quasi abbiamo giocato più il pallone, giocato anche meglio e creato la traversa con un cannavò e subito poco. Negli ultimi minuti poi ci siamo buttati avanti per provarla a pareggiare e è venuto il gol del 3 a 1 in contropiede. Però mi mi rode perché se rimanevamo in 11 contro 11 poteva essere l'ultima mezz'ora, insomma una partita dove si poteva benissimo rimediare del gol di svantaggio, non è che era finita la gara. È l'11 d'agosto, ancora c'è da lavorare tanto, ancora c'è da sistemare tante cose, ma come è normale che sia, loro giocano insieme, più o meno la stessa squadra dell'anno scorso, quindi sono molto più avvantaggiati, parlando anche con gli altri ragazzi di loro, lo ammettono anche loro questa cosa che è normale, che sono avvantaggiati, quindi noi penso che 3-4 l'anno scorso erano in campo, ma neanche forse, e quindi è molto molto difficile alla prima partita, ecco, alla prima vera partita fare meglio di come abbiamo fatto, che secondo me non è andata neanche così male, ecco, a parte il risultato ovviamente, però fino all'ultimo, nonostante anche l'inferiorità numerica, siamo stati in partita, con Cannavoca preso la traversa, con altre occasioni, quindi comunque il nostro credo che l'abbiamo fatto, poi comunque dispiace ovviamente per come è andata alla fine.